Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti o bentornati sul mio canale. Torniamo a parlare di The Sims 4 e lo facciamo dal momento che all'orizzonte pare si stia muovendo qualcosa. Prima di lasciarvi al video però vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto in commenti che ne pensate. E signori eccoci qui, a circa un mese dall'uscita di The Sims 4 cresciamo insieme. La tredicesima espansione di The Sims 4 ha davvero cambiato il modo di giocare. E' stata accolta alla grande da tutti e racchiude in sé tantissimi aspetti, da Generation a tantissime interazioni che hanno reso il gameplay su The Sims 4 decisamente più vario. Dopo alcune settimane che lo gioco, beh, posso dire che effettivamente cresciamo insieme si è dimostrato quel che era. Ovvero un'espansione rinunciabile, uno step successivo e oserei dire necessario che serviva al gioco per dare un po' di pepe e rendere il tutto un po' più realistico e immersivo. Gran parte del lavoro è stato fatto anche dall'update e dall'arrivo dei lattanti. La nuova fascia d'età è qualcosa di estremamente importante e che serviva al gioco e quindi in realtà The Sims 4 sta godendo di una vera e propria rinascita, se vogliamo. Ma detto questo, come sappiamo tutti, arriverà il momento in cui ci presenteranno una nuova roadmap o ci faranno capire che c'è qualcos'altro all'orizzonte. Qualcosina la sappiamo. Il 18 ottobre è stato dichiarato che quest'anno sarebbero uscite due espansioni. E siamo partiti a bomba con Cresciamo Insieme e siamo solo nella prima parte dell'anno. Di conseguenza, se pensiamo che la seconda espansione possa uscire in estate o in autunno, beh, qualcosina di mezzo ci dovrà pur essere. E partono le peggiori speculazioni, dai kit per i lattanti ai passeggini a un gamepack o qualsiasi altra cosa. In realtà nulla di tutto questo è traperato, ma è successo un qualcosa di estremamente importante. Infatti, credo che se avete giocato tanto Cresciamo Insieme, abbiate notato un certo tema ricorrente. Nell'espansione, infatti, sono presenti tantissimi riferimenti ai cavalli. Cavalli che in realtà sono già presenti nel codice del gioco base da tantissimi anni, fin dall'uscita di Cani e Gatti. Se noi andiamo a vedere i codici di gioco di The Sims 4 Cani e Gatti, in realtà ci sono dei codici che riportano alle animazioni dei cavalli. Quindi il fatto che i cavalli dovessero arrivare su The Sims 4, beh, non è poi una grande sorpresa. Sicuramente però vengono richiesti tantissimo e in realtà credo sia arrivato il momento per loro di entrare in scena. E sarà davvero arrivato il momento? Beh, pare proprio di sì, ma non tanto per Cresciamo Insieme. Come vi ho detto, essa aggiunge tantissimi riferimenti. I puzzle col cavallo, statuine col cavallo, la struttura per i bambini di carta col cavallo. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. Disseminati però per tutti i vari DLC, i cavalli sono sempre stata una costante, un po' come la musica di conseguenza, ma aspetto che prima o poi entrambe arriveranno su The Sims 4. Un tente su Twitter però si è preso la briga di racchiudere tutti i riferimenti aggiunti con Cresciamo Insieme. E li vediamo. Come potete notare si passa da giochini per lattanti o infanti alla struttura di cui vi parlavo prima in cartone a dei veri e propri disegni esposti nel nuovo espositore per i disegni di bambini. Abbiamo anche qualcosa legato alla scuola, i puzzle, che ci permettono appunto di creare un puzzle con un cavallo, per poi finire con la struttura che racchiude tantissimi oggetti per i lattanti e che sopra appunto riporta sempre la stessa statua del cavallo. Ma non è finita così. Nel debug infatti è presente questo oggetto specifico, che ancora una volta ci fa vedere un cavallo però montato da un fantino. Il 18 ottobre poi, se vi ricordate, sono stati presentati questi screen. E ne abbiamo già parlato diffusamente, tanto che io avevo supposto che nell'aria ci fosse un vero e proprio refresh di cani e gatti. Questo perché è palese che nello screen è presente una sorta di cuccia per animali e soprattutto lo stile dei mobili è assolutamente identico e si sposa benissimo con quello che abbiamo avuto a Brindleton Bay un bel po' di anni fa. È sicuramente uno stile country o qualcosa che si può ben sposare in uno scenario magari appunto legato all'equitazione. Non sappiamo se questo che stiamo vedendo è effettivamente un game pack, perché in realtà si era parlato di due espansioni, quindi è più facile pensare che questo stile sia legato alla seconda espansione e non ha un game pack. E parliamoci chiaro ragazzi, un'intera espansione legata ai cavalli per assurdo ci starebbe. Avremmo un nuovo scenario in stile country, avremo sicuramente questi nuovi tipi di mobili e soprattutto non dovete pensare al cavallo come aggiunta un po' alla stregua di mucche lama e quello che è successo con Vita in Campagna. Il cavallo probabilmente è stato lasciato da solo perché da solo appunto racchiude tantissime cose che si possono fare. Si può parlare di equitazione, si può parlare di creare o gestire un centro di equitazione con i nostri sim. Per assurdo possiamo insegnare i bambini ad andare a cavallo e così via. Quindi rilasciare tante feature insieme al cavallo secondo me vale la pena e probabilmente se facciamo 2 più 2 c'è tanto di quel materiale da riempire un'intera espansione. E dico questo perché ovviamente oltre all'oggetto che vediamo appunto nel debug che ci fa capire che il cavallo sarà un animale attivo, utilizzabile eccetera beh era abbastanza palese che non ci sarebbe stato solo il cavallo inteso come animale e basta. Su The Sims 3 i cavalli hanno le loro stalle, hanno tantissime feature. Immagino che The Sims 4 porterà a un livello ancora superiore e più immersivo l'esperienza con i cavalli su The Sims 4. A questo punto tutti voi vi starete chiedendo tutto ciò che dici è anche giusto ma è una mera e pura speranza dal momento che non abbiamo avuto nessuna conferma. E siamo d'accordo signori? Come vi dico sempre è bello speculare ma ci deve essere una base di fondamento. E la base di fondamento e la conferma beh è arrivata proprio da The Sims. Questo perché un utente ha chiesto a The Sims salve avrei una domanda ma perché ci sono tantissimi riferimenti ai cavalli e soprattutto vorrei l'inserimento dei cavalli e nuove cose quindi in realtà nuove feature legate ad essi. La risposta del gioco ufficiale la vedete là sotto. Beh credo sia abbastanza palese. Gli occhietti dimostrano sempre che c'è qualcosa nell'aria e in questo caso gli occhietti con il cavallo ci fanno capire che probabilmente stanno strizzando l'occhio al fatto che il cavallo e i cavalli arriveranno davvero su The Sims 4. Difficile dire se arriveranno a breve con un game pack o quant'altro ma a questo punto se prendiamo gli screen del mobilio che abbiamo visto il 18 ottobre e che quindi si sposano bene a cani e gatti e lo stile country beh c'è da pensare che probabilmente saranno i cavalli la seconda espansione quest'anno. Qua però si genera una diattriba dal momento che la seconda espansione l'abbiamo detto più volte pare in realtà è stato speculato si potesse in realtà tradurre in celebrazioni qualcosa legato al tristo mietitore e quant'altro ma non è detto il tristo mietitore che è rimasto un po' in sospeso potrebbe avere tantissime feature e però potrebbe benissimo essere un semplice game pack. Da qua alla fine dell'anno mi aspetto almeno un game pack quest'anno oltre a mille kit e spero in realtà il ritorno degli staff pack ma di base in realtà abbiamo all'orizzonte solo una seconda espansione e se ciò che vi ho detto è vero beh strizzando gli occhi come fa il gioco ufficiale non credo ci sia troppo di cui discutere pare in realtà stavolta i cavalli saranno una certezza non sappiamo quest'anno ma ripeto tutti i riferimenti su Cresciamo Insieme gli stili dei mobili che abbiamo visto insomma mi fa capire che probabilmente è giunta l'ora e so per certo di far felice con questo video tantissime persone che stanno chiedendo i cavalli a gran voce da tanti anni quindi aspetto voi qua sotto nei commenti per farmi sapere che ne pensate io per questo video vi dico che è tutto vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti